Ha smontato tutto Gli è caduto il microfono Ha stato tutto È rimasto col microfono in mano Ladies and gentlemen Benvenuti in questo nuovissimo video Trofe quanti soldi hai? Ho 10 euro Precisi? Non ho tanti soldi Devi farci qualcosa? Oltre alle medicine Ah allora Allora io ti propongo una sfida Puoi trasformare questi 10 euro O in 0 euro O in 100 Sfidandoli con me Accetti? Ti va bene? Faremo The Bridge E sarà alla meglio di 3 Quindi il primo che riesce a vincere Due partite di fiera Io in realtà ho abbastanza paura Ovviamente Devo fare tutto affidamento sul fatto che Sono bravo sul The Bridge Raffae Questo ballo ti ricorda qualcosa? Sì Oppure se ti chiamo Truelle trattino basso Va bene Ti ricordo qualcosa? Forse non dovrei gasarti così tanto effettivamente Però Però non hai mangiato la che Trofe ma cos'hai fatto in questi mesi? Uh Ma che hai mangiato? Ma che hai mangiato? Qualsiasi cosa tu abbia mangiato Avrai mangiato anche pane e sogni Pensavi davvero di potermi fare punto per primo? Non ti permettere mai più Truef è arrabbiato ok? E' arrabbiato E quindi ora fare culo te Però Vedo dei miglioramenti zi Sta cosa non mi piace per niente perché Non me l'aspettavo che tu Ora ti mettessi a traiardare in questa modalità per migliorare Contro di me Dove aver preso due volte gli schiaffi pensavo che Ti fossi arreso Così Aspetto Oh non riesco a passare Fammi passare Devo passare Tu non passi da qua ok? Oh no mi sono murato da solo Non ci credo Ho battuto me stesso Non è niente non riesco a passare Perfetto Perfetto Mi sa che devo Devo sfoggiare anche qualche tattica nuova che ho imparato Io non ho imparato nulla Sono solo Incazzato dopo l'ultima volta Bravo bro Tranquillo bro Che con l'incazzatura si fa ben poco Bisogna sempre mantenere i nervi saldi In ogni situazione La calma Dilla un altro easy Easy A me non giochi facile Va bene Easy Va bene Raffa Sei sicuro di voler provocare me? Non so quanto ti convenga Va bene Ah li vuoi proprio sti soldi però eh Ma lascia stare il mio portafoglio No 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 Oh shit Raffa quanti kill hai? 19 tu 27 L'importante sono i punti Zero a zero eh No Sì Perché cazzo parlo Sì Perché cazzo parlo Zitta Easy 1 a 0 I true F sono facili Perché basta fargli perdere la calma E diventano instabili No Sono caduto Ok L'ho gestita L'ho gestita L'ho gestita La gestisco La gestisco Alla ricci dai Arriviamo alle accuse di A ancora Ma qualcuno Aia Me la sono sudata brutta Ho visto Cioè Tu non hai capito Tu ogni volta che si avvicini Alla mia base C'è Proprio la notifica Che mi arriva al cellulare Di Paypal Che mi dice No mi ti prego Non mi abbandonare Perché Perché vuoi farmi sparire Per sempre No Ok Vabbè Vabbè Non mi claccia Sono un king Go Come T'ho preso Non lo so Però sei morto No Easy 2 a 0 Perfetto Devo resistere 5 minuti Perfetto No way La sblocco così Easy 3 a 0 Eh Fratma Eh Fratma Eh Fratma 4 a 0 Così La sblocca così Tutta in una volta La sblocca Vai Cioè Si può dire Che questo punto Te l'ho fatto fare io Sì Ma il tempo Passa troppo lentamente Mancano ancora 4 minuti e mezzo Ma devo Craccio La mine Craccio Fatto Oddio Mi sono clasciato Di nuovo Allora 3f Non è come Sembra Ho un dubbio Allora Un dubbio Sì 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 Easy 200 U Mamma mia 3f Distrutto 1 a 0 Per me Se vengo il prossimo Sono tranquillo Se lo vinci tu invece si va alla bella Allora te lo dico Te lo giuro Il mio portafoglio sta tremando Ma che fa? What? Sta tattica non l'ho vista Perché stava spaccando la mappa che già esisteva? Ma che fa? O è talmente pazzo? Ma che sta facendo? O è talmente pazzo che si sta inventando nuove tattiche? Oppure sta giocando a caso? Perché sono abituato a giocare normalmente Ma che sta facendo? Non lo capisco Però nel dubbio lo sto distruggendo Ma che fa là sopra? È una scimmia Ma che sta facendo? La tecnica di Appunto Ti sta confondendo no? Sì Però io sto Sto per farti punto Tu non mi fai un Niente No Se avevo la freccia Ma che cosa fai? Ma che fai? Ha fatto il buco Mi piace niente Perché Perché passare per sopra Quando c'è il sotto True F2022 Si fa così? Si fa così? Perché poi ti distraggono? Perché poi Perché poi io faccio così? Perché faccio così? E faccio così? E faccio così? E faccio così? E si balla? Si balla? Perché secondo me Ora stai cominciando a giocare a caso Non per confondermi Ma perché hai tipo Gli uccellini intorno Come su Pokemon Quando una persona è stonnata Ma che fai? Ma che fai lì sopra? Già lo sento Che mi sta chiamando Il mio balletto No Perché ora tu sei là e guarda 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 faccio così faccio così Ma che sta facendo Calcolato Anche questo era calcolato Sì Ti sono dovuto partire l'inseguimento è ripartito Hai bug abusato Hai bug abusato Non è vero Hai bug abusato Per schifare la mia freccia ti sei bussato con i blocchi dove non potevi passarli Sei uno schifoso Stai bug abusando per vincere Non è vero Schifoso Schifoso Hai bug abusato E sai zitto che c'è due punti saprei me Cioè tu vedi che cosa si riduce A fare questo Omuncolo Questa scimmia Per cercare di vincere 4 a 1 Dai se sono uomo vieni Dai vieni Mezzo cuore Mezzo cuore Il silenzio di truef che sta morendo dentro vale più di mille parole Il mio portofoglio sta Te lo giuro sta Sta per ordinare dei fuochi d'artificio Che costano quasi quanto quello che io avevo scommesso Però è più felice di spenderli così Che volevi fare Che volevi fare Marameo truef Ti faccio il pot Vieni Grazie Grazie Ok truef 4 a 1 Truef sono dietro di te Truef 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 Ti distrutto Se io prendo qualcosa di serio è brutto Quindi scrollo ancora un po' Quando trovo quello lì bello memoso Che dico io Beh non così veloce Ti dico fermati Il fatto che tu abbia preso le botte Che tu volevi i miei 100 euro Ma che non li hai avuti Qualcosa che lo possa andare a simboleggiare Disgusted Ci starebbe il vomito Per simboleggiare il fatto che tu faccia vomitare Ci starebbe molto Fermati Lo slap Ti ho preso a schiaffi Ti ho preso a schiaffi Ti ho preso a schiaffi Sì 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 Lo voglio No no Sono Mr.Domi Guarda che figo che sono Guarda che figo che sono Tutto quello che hai ricevuto in questo video E dai Fallo un'altra volta Dai buttami i miei soldi Basta Questa carota diventerà casa mia Dato che non c'ho più i soldi per pagarla Dato che figo che sono